Un insulto a sfondo razziale avrebbe scatenato una rissa sugli spalti durante una gara del campionato Under 16 tra Napoli e Parma. I carabinieri sono intervenuti infatti a Via Camillo Guerra nel centro. Sportivo Kennedy, da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che durante la partita di calcio Under 16, disputata tra le squadre SSC Napoli e Parma Calcio, alcuni genitori abbiano litigato tra loro per poi finire alle mani ad avere la peggio un 54enne di Cadelbosco di sopra in provincia di Reggio Emilia, che è stato soccorso dal personale del 118. All'uomo, trasferito nell'ospedale di Giuliano in Campania, è stata diagnosticata una frattura chiusa delle ossa nasali e abrasione e ostione da attrito senza menzione di infezione, sette i punti di sutura e sette i giorni di riposo medico. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Vomero impegnati a ricostruire l'intera vicenda. Grazie.